La pressione dell'acqua nelle condotte di Palermo è stata portata a 2250 litri al secondo. Ancora un ribasso nell'intento di risparmiare le quantità sottratte ai quattro invasi che alimentano la città, Scanzano, piena degli albanesi, Rosa Marina e Poma. Nel lungo periodo si spera in giovepluvia autunnale. Intanto, per Giovanni Sciortino, direttore generale dell'AMAP, si può star certi che per i prossimi mesi non ci saranno particolari variazioni nelle quantità d'acqua distribuite alla cittadinanza. Ci troviamo proprio sulla sala di telecontrollo, quindi la cabina di regia di quello che è il sistema di distribuzione e di approvvigionamento di Palermo e provincia. Verso l'approssimarsi di questo terribile scenario, abbiamo volutamente cominciato a diminuire le portate emesse nella rete, partendo dalla rete Palermo, partendo da 2.500 litri al secondo, arrivando a tutt'oggi a circa 2.250. Il sistema acquedottistico di Palermo e provincia però ha necessità di un fabbisogno di 3.500 litri al secondo. Oggi è ridotto di poco perché è vero che l'approvvigionamento di Palermo è ridotto, mentre vista la migrazione della popolazione palermitana ad occidente e oriente, i centri balneari sono meglio approvvigionati. Comunque adesso diciamo che il sistema di Palermo con questa portata di 2.250 è abbastanza stabile e non dà molti pendolamenti e quindi non abbiamo reclami o quant'altro che ci possono pensare di preoccupazioni. Grazie a tutti.